5 aprile 2022 messaggio della madonna di anguera vi state dirigendo verso un futuro di grande dolore cari figli voi siete proprietà del signore e le cose del mondo non sono per voi non permettete al nemico di dio di rendervi schiavi siete liberi di appartenere al signore io sono vostra madre e sono venuta dal cielo per condurvi a colui che è il vostro unico vero salvatore non vivete lontano dalla preghiera solo attraverso il potere della preghiera potete capire i piani di dio per la vostra vita vivete in un tempo peggiore di quello del diluvio pentitevi e rivolgetevi a mio figlio gesù vi state dirigendo verso un futuro di grande dolore molti scelti per difendere la verità la negheranno soffro per quello che sta arrivando per voi traite forza dal vangelo e dall'eucaristia qualunque cosa accada rimanete con gesù e ascoltate gli insegnamenti del vero magistero della sua chiesa andate avanti in difesa della verità questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della santissima trinità grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta vi benedico nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen andate in pace grazie a tutti grazie a tutti